Oggi ha avuto notificato il licenziamento da dirigente dell'Asi di Agrigento. Tra le accuse, l'accusa che le viene maggiormente contestata è quella di aver favorito imprese in odore di mafia. Come si difende da questa accusa? Intanto rilevo che l'averlo ricevuto oggi circa alle ore 12 o alle 11 e mezza è un fatto grave e mortificante perché ho appreso ancora una volta dalla stampa di essere sotto inchiesta dalla mia amministrazione e per me è una cosa davvero bruttissima aprire i giornali e leggere queste notizie. L'accusa principale che mi viene mossa è come tutte le altre accuse radicalmente invondata e oltre a spiegarne i motivi volevo anche capire il perché il commissario si sta comportando in questo modo con i suoi funzionari e dirigenti. Per quanto riguarda l'antimafia, il commissario leggo dei giornali che porta avvanto della sua attività commissariale a avere provveduto a 4-5 irrevoche su ditte in odore di mafia. Io ne sono contento, non l'ho mai detto perché sono un funzionario che lavora in silenzio. Io non ho fatto 21 in questi mesi precedenti e prima che venisse il commissario. Sono 21 provvedimenti miei, tutti purtroppo negativi di irrevoca, di benefici nei confronti di aziende in odore di mafia. Io ho lavorato sinceramente e seriamente col massimo impegno su questa tematica. Ricordo pure che ho esteso il protocollo di legalità a tutte le aziende operanti nell'Asia, a tappeto e ho addirittura colmato anche lacune amministrative di informativa antimafia che la precedente gestione commissariale e il precedente direttore non aveva fatto. Mi è sembrato oltre che mortificante l'esivo della mia persona che il commissario mi rappresenti all'esterno anche nei confronti di queste ditte come un dirigente in vedere. Perché quello che sta succedendo, al di là della tematica, è che vengo rappresentato agli occhi di queste tra virgolette aziende colluse come un dirigente che ha favorito alcune ditte in odore e danneggiate altre. Io siccome non ne ho favorito nessuno, tutte e quante le ho colpito, vengo esposto anch'io ai rischi. Per questo lo chiamerò davanti alle autorità competenti. Forse cercavo un primato, se lo cercavo un primato sulla legalità, nessuno glielo stocca al commissario. Però non può buttare me sulla strada, me e gli altri dirigenti che abbiamo sempre operato. Ripeto, tutti, dico tutti e lo ripeto per la terza volta, tutti i provvedimenti relativi alle informative antimafia, compresi quelli che ha adottato il commissario, portano la mia firma nella qualità del direttore, di dirigente proponente o di dirigente responsabile a secondo le varie funzioni e ruoli che ha rivestito. Quindi io avendo partecipato nello stesso modo e in tutte le informative, ritengo di essere un ottimo dirigente. Volevo ricordare che né io come dirigente, né i miei colleghi dirigenti, né per quanto a mia conoscenza nessun altro del mio ente, ha ricevuto da parte della magistratura su questa delicatissima materia delle informative nessuna comunicazione. Quindi mi pare strano che tutto questo problema lo abbia sentito e intravisto soltanto il commissario Cicero. Consideri che per qualunque attività, qualunque provvedimento noi andavamo facendo, andavamo informando sia il prefetto che voglio andare a ritrovare, sia chiaramente gli organi preposti che sono stati sempre informati. Io ho ricevuto tra contestazioni disciplinari, amministrative e contabili 90 punti. Mi contestano cose risalenti addirittura al 2007. Non occorre essere un avvocato per sapere che la contestazione deve essere invece legata a fatti contingenti e non si possono contestare fatti resalenti dal 2007 o al 2008. Ma non è solo un fatto temporale, è anche un fatto di giustizia. Tutti questi provvedimenti sono stati adottati dall'ente, approvati dalla Regione e organi di controllo. Su questi provvedimenti sono espressi il Collegio Revisore, il Nucleo dei Garanti, la valutazione dei dirigenti. Sono intervenuti una serie di controlli a tappeto sull'attività dei dirigenti negli ultimi 5 anni. Sicuramente una cosa può sfuggire, ma non 90. Riuscire a trovare 90 contestazioni in così poco tempo, secondo me è un segnale che comunque si vuole arrivare a un obiettivo.